Saracineschi abbassate per circa 15 minuti per ribadire la necessità di una pronta riapertura delle giornate festive e prefestive e confermare la sicurezza dei centri commerciali, una serrata pacifica e simbolica che è stata posta in essere ieri anche nel nuovo borgo di Sulmona, alle untici in punto, in concomitanza con gli altri punti vendita del paese. La manifestazione ha voluto ribadire la sicurezza dei centri, parchi e gallerie commerciali che sin dall'inizio della pandemia hanno adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun caso di focolaio in tali strutture. Dall'inizio dell'emergenza il settore dei centri commerciali si è impegnato in un dialogo costruttivo con il governo, anche mettendo volontariamente e gratuitamente a disposizione 160 strutture sul territorio nazionale per la creazione di hub vaccinali, rimarcano le associazioni del commercio, che auspicano di poter avere da restituzioni risposte certe e tempestive, per rimettere in moto un comparto tra i più danneggiati dalla crisi, che continua a operare solo parzialmente, senza una chiara prospettiva di ripresa. In ballo ci sono 780.000 lavoratori di 1.300 strutture commerciali italiane. Il direttore del centro acquisti nuovo borgo di Sulmona, Andrea Di Cosmo. In qualità di rappresentante del centro acquisti nuovo borgo e della società di gestione che opera in campo nazionale, esprimo tutto il mio rammarico per una situazione che ci vedete oggi sicuramente ancora penalizzati a causa delle chiusure imposte nei weekend e nei giorni festivi. A scanso di ogni fraintendimento ci tengo a precisare come sia evidente che la tutela della salute venga prima di tutto, ma credo che ormai i tempi siano maturi perché questo processo di riapertura in atto interessi anche i centri commerciali che operano nella massima sicurezza. Dal governo centrale si sta lavorando proprio in tal senso, ma la serrata simbolica sicuramente smosso le acque.